bella a tutti ragazzi io sono Tommy e benvenuti in questo buonissimo video allora ragazzi io ci siamo tornati con un nuovo video di fortnite e che dire ci vediamo in partita bella eccoci ragazzi sul bus io direi di andare a lande letali questo carino allora perfetto lande aspettate che devo uccidere con lo spray magico la mosca adesso si è morta perfetto possiamo tornare al video la balenga quella bascata la rubartietta c'è un po' troppa gente in casa per i miei gusti ho fatto minare le casette lasciamo che si massacrino ehi lag lag guarda dai 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 Ok. 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 Visto. Ok guys. Adesso ora ho bisogno di cura Trappolo ok ma io ho bisogno di cura Grande falò Regalo è inculato male Ok calmi Ok adesso ci possiamo luttare lande Allora ho anche delle bende, mi prendo anche le doppie Mi prendo tutto Allora Ho sbaglio o ho visto anche delle bende? E ho visto anche delle bende Che strano Allora Già lootato Altra granate Questo prendo tutto Prende porta a cassa Sì Eh vabbè ragazzi io ci ho provato Fatemi prendere sta Thompson Allora io l'ho visto Che stava laggiù Lui adesso modo sta Aspettate ragazzi io li vedo dei shield Aspettate ragazzi mi sa che l'ho visto eh Ok Ok Colpito Aspettate ragazzi mi sa che la Grazie a tutti Grazie a tutti Da dove Ah eccolo perchè è morto Ho detto piuttosto io ci provo Forza 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 Ah guardalo qua sto bello shigar Minchia Non laggare Ok abbiamo un botto di roba No dai per fresco questo Allora Andiamo In safe Prendiamoci questa mela Allora Visto Regà non sono messo in una buona posizione Cazzo ma io non ho materiali Ok Allora Allora Così lasciate un like Condividete il video Iscrivetevi Consolta in descrizione Trovate i link Nei nostri social E nulla Ci vi chiamo Ad un prossimo video E ciao 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 Ciao